Ciao, come diventare più seducente? In questo video voglio spiegarti quali sono le modalità per essere più seducente. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento. L'abbonamento, diciamo, potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise abbonandoti al canale. E veniamo al tema, quali sono le modalità per diventare più seducente? Allora, il fatto di essere più seducente corrisponde a delle abilità sociali, a delle capacità relazionali, perché la capacità di gestire al meglio le nostre relazioni è proprio l'abilità che ci rende più seducenti, è l'abilità che ci rende più, come dire, che ci rende persone più intriganti, che ci rende persone più interessanti. La mancata, diciamo, capacità relazionale è quella che invece ci blocca, è quella che ci rende meno seducenti, è quella che ci rende meno attraenti. Quindi imparare a sviluppare capacità relazionali è fondamentale. Inoltre, sviluppare capacità relazionali ci rende anche persone più sicure, persone in grado di interagire nel modo migliore con gli altri. Quindi sviluppiamo tutta una serie di abilità, tutta una serie di capacità, che di fatto ci fanno stare meglio, e questo è davvero fondamentale. Quali sono delle capacità relazionali che ci rendono più seducenti, più attraenti? Beh, intanto è fondamentale, ad esempio, la gestione dell'e-contact, la gestione del contatto visivo. Quando interagiamo con una persona, impariamo a guardarla negli occhi. Dobbiamo magari all'inizio prestare attenzione, però dobbiamo guardarla negli occhi e imparare a sorridere. Imparare a sorridere perché guardare negli occhi una persona e sorriderla posso assicurarti che veramente darà un upgrade notevole alla tua capacità di risultare una persona seducente, una persona attraente. Anche la capacità di gestire il tono di voce, mantenere un tono di voce appropriato mentre si parla è fondamentale. La capacità di flertare, cioè la capacità di giocare, di essere allusivi, di fare battute, di utilizzare l'ironia. Questo sia per gli uomini di usare degli amicamenti, di usare un linguaggio non verbale, diciamo, sensuale. Sensuale. Ecco, tutto questo è un'abilità che ci rende veramente molto più seducenti. Sia uomini che donne, ovviamente. Ma anche l'assertività, la capacità di esprimere le proprie opinioni. E poi c'è un'altra cosa che rende estremamente seducenti le persone, cioè l'empatia. La capacità di percepire le emozioni degli altri e saper gestire le proprie emozioni. Ecco, quindi queste capacità relazionali, queste capacità sociali, dobbiamo imparare ad addestrarle. Diciamo, l'addestramento allo sviluppo di queste capacità relazionali, per essere più seducenti, possiamo iniziare a metterle in atto con tutte le persone. Deve diventare un... deve far parte, diciamo, della nostra vita. Noi dobbiamo diventare innanzitutto consapevoli, ad esempio, del linguaggio del nostro corpo, per saperlo esprimere al meglio. Dobbiamo utilizzarlo in tutte le situazioni della nostra vita. Perché questa formazione, inizialmente, diciamo, potrà richiedere un po' di tempo, però poi ci darà veramente dei risultati veramente fondamentali. E ci permetterà di, diciamo, apprendere in modo naturale, spontaneo, automatico, tutta questa serie di, diciamo, modelli comunicativi che ci portano ad ottenere, diciamo, dei risultati. Man mano ci, diciamo, esercitiamo consapevolmente e otterremo veramente dei risultati che neanche la nostra più fervida immaginazione ci può far capire quanto siano importanti. Ovviamente, questo allenamento può essere efficace se ci mettiamo la volontà, perché è la volontà un po' il muscolo della mente fondamentale, e anche, diciamo, la fiducia in noi stessi. Praticandoli in modo costante, anche solo una di queste capacità sociali, relazionali, come il guardare negli occhi, il sorridere, piano piano possiamo svilupparle tutte, ci consentiranno di diventare veramente molto, molto più seducenti. Dobbiamo anche imparare a sviluppare l'empatia, e questo è fondamentale, e di questo magari dedicherò proprio un video a sé, perché l'empatia è veramente importante. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi su TikTok, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e riabbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live, alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti!